Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Claudio Tron. Grazie a voi, fratelli e sorelle, e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. L'opera del Creatore è visibile. Rispondiamo con lode. L'esempio di Gesù è evidente. Rispondiamo con ubbidienza. Il vento dello Spirito soffia. Rispondiamo con gioia. Il profeta Isaia dice «Cieli, stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apre la terra e si affeconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, dice il Signore, «Creo tutto questo». Ci raccogliamo in preghiera. Signore nostro Dio, noi vogliamo accogliere questo invito che il profeta rivolge non soltanto all'umanità, ma ai cieli, alle nuvole, alla terra. I cieli facciano piovere dall'alto, le nuvole facciano piovere non pioggia fisica, ma la giustizia. La terra sia feconda di salvezza. Noi sappiamo che tutto questo tu l'hai fatto germogliare mandando il tuo figliuolo nel mondo. Per questo ti diciamo tu, Signore, crei tutto questo. È questo l'annuncio di gioia che tu ci proponi ancora in quest'ultima Domenica di Avvento. Noi confidiamo in te, ci rallegriamo nella tua presenza. Aspettiamo che il tuo regno si compia. Tutta la terra ti benedica. Tutto il creato canti la tua gloria. Lode a te, Dio nostro. Amen. Salve 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 Alla Cielo stai per la sede, tu mi ci guidai al Creador. Proverei nostri sempre bene, Egli ha formato i nostri cuor. Egli santo e giusto, del suo don augusto, Il don non osserva no. Vigilassi e vero, sul teatro in teo, Dona il tuo Cielo. Cielo la mano dell'Eterno, Sempre su noi si posera. Cielo la mano dell'Eterno, Sotto lo scuadlo, 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 Sotto lo scuadlo. Per quest'ultima domenica, Dà un giorno una parola come testo di predicazione, che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo primo, i versetti da 26 a 38. Nel sesto mese, dopo che era apparso a Zaccaria, padre di Giovanni Battista, l'angelo Gabriele fu inviato da Dio, appunto sei mesi dopo, in una città della Galilea chiamata Nazareth. Fu mandato a una giovane, promessa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della giovane era Maria. Entrato da lei, disse, Salve a te che hai ricevuto grazia, il Signore sia con te. Lei a questa parola rimase perplessa e si chiedeva il senso di tale saluto. L'angelo le disse, Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai nel tuo grembo un figlio, che partorirai e chiamerai Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, e il suo regno non avrà fine. Maria disse all'angelo, Come potranno avvenire queste cose dal momento che non conosco uomo, non sono sposata? L'angelo le rispose dicendole, Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti porrà sotto la sua ombra. Perciò anche colui che è generato sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anche lei nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era ritenuta sterile, perché per Dio ogni cosa è possibile. Maria rispose, Allora, ecco, sono la serva del Signore, mi accada secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Care sorelle, cari fratelli, l'Annunciazione è nota quasi più ancora attraverso le rappresentazioni pittoriche che attraverso il testo biblico è un'annunciazione di nascita, come per altre nascite fin dall'antichità. La nascita stessa è preceduta da un annuncio, così Isacco, Sansone, Samuele, e subito prima della nascita di Gesù, quella del Battista. Nell'antichità una nascita annunziata era cosa importante. Non si conoscevano con esattezza i meccanismi biologici del concepimento. Pertanto una nascita annunziata era qualcosa di eccezionale. Qui è eccezionale ancora di più. La nascita è annunziata a una donna che non è in grado di avere figli attraverso la via nota, perché non ha un uomo, non ha un marito. Le altre nascite annunziate che abbiamo menzionate sono dono a donne sterili, anche qui, quindi donne non in grado di avere figli, però qui il dono è una vergine. La cosa non è sottolineata come virtù da conservare con gelosia, ma come dato di fatto che sottolinea la figliolanza divina di Gesù. Non ci interessa la continuazione di questo stato di verginità. Sarebbe un pettegolezzo per Maria come per qualsiasi altra donna. Quello che ci colpisce è che i padri, sia di Giovanni Battista, sia di Gesù, non dicono niente. Il padre di Giovanni Battista resta muto. Il padre di Gesù semplicemente non compare, tace, non è ancora marito di Maria. Gli avvenimenti in cui Dio interviene in misura e in modo tale che non puoi dire nulla di tuo, sono avvenimenti importanti. La nascita è annunziata in un'apparizione. Le apparizioni in Luca hanno un po' il ruolo che in Matteo hanno i sogni. L'apparizione però vuole dare concretezza al dialogo che Dio intavola con Maria in questo caso. Il saluto dell'angelo è «Ti saluto, Maria, che sei colmata di grazia». Vale la pena ricordare che questo «ti saluto» è una tradizione molto banale. Va già bene che la nostra traduzione non usa la parola latina «Ave Maria», perché per noi «Ave» non vuol dire niente. Dice «Ti saluto», poi aggiunge che «sei colmata di grazia». Può essere interessante ricordare che il saluto, nella lingua del Nuovo Testamento, in greco, è «caire». Come in Piemontese «Ciareia» vuol dire «grazia», la grazia sia con te. Eppure, Maria è turbata. Lo siamo anche noi, se pensiamo alle altre occasioni in cui questo saluto di pace viene ripetuto. Viene ripetuto in particolare, secondo l'Evangelo di Marco, quando Gesù è in croce. «Gioisci, Re dei Giudei», «Salve, Re dei Giudei». Ma, appunto, se il saluto di pace è un invito alla gioia, c'è dietro tutto il sarcasmo. Quindi, tra questo saluto di pace vero, rivolto a Maria, e il saluto beffardo, rivolto a Gesù, si svolge tutto il ministero di Gesù. Sono i due estremi. «Gioisci per davvero, gioisci, tu che adesso sei in croce». L'angelo dice a Maria, «Quando nascerà il tuo figliuolo, gli porrai nome Gesù». E l'Evangelo di Matteo sottolinea che questo avverrà. Maria gli pose nome Gesù. Il nome Gesù è abbastanza diffuso nella storia d'Israele, in forme leggermente diverse, che giungono all'italiano sotto forma di Giosia, Giosuè, Jesua, ma sono le stesse consonanti. E voi sapete che nell'ebraico le vocali sono molto mobili, sono state appiccicate dai massoreti, dalla scuola massoretica, intorno al primo millennio dopo Cristo. Allora, che sia Gesù, oppure Giosia, oppure Giosuè, è lo stesso nome che significa «Yahweh è la mia salvezza, l'Eterno è la mia salvezza». Anche oggi la scelta dei nomi è spesso un segnale di ammirazione per un personaggio. In passato, nella cultura valdese, erano i nomi biblici a fare da modello e nel susseguirsi delle generazioni ritornavano i nomi di Pietro, Giovanni, Beniamino. Al tempo di Gesù, riprendere questo nome dall'antichità ha il senso di un programma, di un programma che appunto è il dono e salvezza di Dio. Ma c'è forse anche qualcosa di più, perché i momenti in cui nelle scritture di Israele questo nome è frequente sono momenti particolari. Il primo è l'uscita dall'Egitto e l'insediamento in Palestina che è guidato appunto da Giosuè. Giosuè «L'Eterno è la salvezza». Ecco, è la salvezza in questo pellegrinaggio verso la terra promessa. E poi, per vari secoli, il nome non ricompare con molta frequenza, ma ritorna invece nel secondo libro delle Cronache, nel libro di Esdra, nel libro di Neemia, nei profeti Ageo e Zaccaria, quando c'è la prospettiva del ritorno dall'esilio di Babilonia. Questo è quello che fa da antefatto alla venuta di Gesù. Gli porrei nome Gesù, cioè Gesù sarà il riassunto, la sintesi dell'arrivo nella terra promessa, la sintesi del ritorno dall'esilio di Babilonia. Indicherai dunque tu, Maria, nel suo nome, la ripresa di questa storia, che sottolinea che Dio mette davanti a te dei doni e che ti salva mettendo sotto i tuoi piedi una terra promessa. Amen. Sottolinea Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vera carità, il vero e il vero bene, e l'umanità. Ti raccogliamo nella preghiera di intercessione. Eterno è Dio e Padre nostro, ti chiediamo che in ogni cosa tu ci renda forti, ricordando anche col nome di Gesù che tu sei la nostra salvezza. Aiuta anche noi a trovare gioia. Vieni a dire anche a noi, gioisci. Aiutaci a trovare gioia nello studio delle scritture, nella condivisione della nostra vita con i fratelli e le sorelle in fede, nel servizio verso i più deboli e gli emarginati, nell'annuncio dell'Evangelo alle persone che ti ignorano. Aiutaci a trovare nella Chiesa uno stimolo per la nostra immaginazione, un'emozione che ci scuota dalla nostra pigrizia, una sorgente di forza per fare quello che tu vuoi e per impiegarci affinché nel mondo sia fatto quello che tu vuoi. In questo mondo travagliato dove è difficile dire gioisci, dove è difficile dire tu sei amato da Dio, tu sei favorito, favorita dalla grazia, tu ce lo ripeti e per questo ci inviti anche a rivolgerci a te chiamandoti Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga presto il tuo regno, ma anche oggi sia già fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo quando non dipende da noi. Dacci oggi, dai all'umanità il tuo pane, il pane quotidiano. Aiutaci a vivere una cultura del perdono, perdona le nostre offese e fa che anche noi siamo capaci di perdonare chi ci ha offeso. Non metterci alla prova, proteggici dalla tentazione e liberaci dal male, poiché a te appartengono per sempre il regno, la potenza e la gloria. E ora ci salutiamo reciprocamente, non sono io che saluto voi, ci salutiamo reciprocamente con queste parole della scrittura. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Grazie a tutti.